Ciao, mi chiamo Renato Cotini e sono qui per presentarti l'unico corso in Italia in grado di unire magia e seduzione. Studio prestigiazione e mentalismo da circa 20 anni e ho deciso di svelarti alcuni segreti che ti consentiranno di generare attrazione, incuriosire e soprattutto intrigare chi ti sta di fronte. In questo videocorso imparerai tre diaboliche routine magiche che ti consentiranno da subito, anche se non hai alcuna esperienza nel settore, di approcciare una persona che non conosci, suscitare interesse in lei e lasciare i tuoi recapiti in maniera del tutto originale. Capirai come catturare al meglio l'attenzione e come sfruttare a tuo vantaggio le emozioni che genererai. Sarai in grado di distinguerti dalla massa e riuscirai a capire subito qual è la giusta performance da utilizzare quando sarai in gruppo tra amici in un locale pubblico o anche ad un appuntamento a lui. Ricorda, questo è l'unico corso di seduzione attraverso la magia. Non puoi lasciartelo scappare. A presto!